buongiorno ragazzi siamo al lago dell'olmo oggi tempo nuvoloso c'è anche vento e preveremo a fare delle belle catture lago bellissimo come sempre e adesso ci mettiamo subito in pesca iniziamo subito con la varivas aria drive questo mulinello uno shimano vanford e questo spoon arancio e oro proviamo il giallo proviamo aria 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 ragazzi questo è grossa la big 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 taccolo ragazzi ma è bella spettacolo è la big liberata bellissima cattura con questo spoon giallo ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, ragazzi. Grazie a tutti. E ora la liberiamo. E' bella. 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 Grazie a tutti.